Oggi siamo ad Atri per conoscere Lidia. Lidia ha realizzato il marchio Lefrak, un nuovo marchio di borse. Borse veramente molto belle, infatti tutte le donne della squadra hanno già fatto shopping. Lefrak è il desiderio di una mamma di realizzare una linea di accessori in feltro di alto valore qualitativo e artigianale. Un prodotto che si è risultato dell'eccellenza del Made in Italy. Si chiama Lefrak perché è l'acronimo dei miei tre bambini, Leonardo, Francesca e Claudia. Nasce tutto da loro, da quando sono diventata mamma. Grazie a loro che ho scoperto, giocando con loro, parlando il loro linguaggio, che è tutto creativo, tutto fatto di fantasia, di meraviglia, è lì che ho scoperto la mia grande vena creativa. Grazie. Grazie.